ok aspera vai saluto sentitamente ringrazio massimo per la disponibilità ok aspera ora 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 Vai vai, butta dentro. Dai qua qua. Dai qua qua. Mi riusciti, dai. E' un controllo. Se faccio il rumore. Hai chinti urmato dentro. Eh, io mi la devo metter. Hai chinti da' astea? Hai fatto da' astea da' astea. E' un controllo. E' un controllo. E' un controllo. E' un controllo. Facciamo all'uscina, vabbè, così. Almeno si vedo un po' oggi. Oh, grande. Vabbè, eccola. ... La puoi andare a finire lì per tornare? Sì, sì. Scusa che si trombo cazzasse. No, no, andrò qua. Faccio i gudà che la faccio i gudà mentre la viva. Faccio i gudà a te. C'è, perché si ti lega che mi emoziona, no? No, vabbè, vanno a dire, dammi una mano! Hai capito? Uè, hai portato la Lamborghini, che si sta a fare in confronto? Si, ma comunque sembra una macchina sportiva, capi? E' amore, a prescindere da tutto, la Lamborghini... E' sembra amore! Quanto è bello, ma si! Ma cosa è che ragazzi? Cioè, tenete proprio l'impostazione, io... Eh, tipo Bokart! Eh, questa forza è che si! Cioè, qua io stavo in forza così, la roba ci ha messo la carina, non l'appiggio! Va sempre dritto! Va fino all'ingresso, la... Eh, poi dimmi la radio girata, perché è stato dato al cibo! Fai una finta come vuoi andare a partiggio! Ah, quindi ora vedi due partiggio! Non c'è nessuno! Attenzione! Non c'è nessuno! Ecco! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! non l'ho capito chissà dai proprio subito in un paio di tubo ora si vede bene questa luce addosso a velocità molto bassa ammortizzate bene guarda pensavo che erano pochi o rigidi invece vanno vanno bene proprio Massimilio forse sanno pochi gas che hanno su mcdonald vengo qua un rettilineo mcdonald prima eri che l'ho fatto proprio per me l'ho fatto qualche a destra e sinistra veramente? preparatevi sto a posto sono andato paura 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 no 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 ma questa è una sola la prima la seconda torna di là faccio giro torna si si ma ma come fai questo sul protesto perché ti scassi in richiesta? infatti non si è tolto aiuto venga 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 non sono proprio omologata sta al lato passeggero ma vieni a vedere quanto è senza ti preoccupare non mi metta a casa più di quello pieno ma guarda proprio che non sono omologata a sta fianco e pensa a chi da l'hamborghiera mamma mia secondo me che lo teneremo nanzi in golla no? e ci credo e mi sono trovato subito bene e l'ho fatto camminare no? ma mette a casa una che ha una salita brutta abbastanza buona mamma mia faccio la stessa salita dell'ipercoppa faccio di nuovo la salita dell'ipercoppa dell'ingresso? eh si qua c'è il tenecordio qua è tutto un po' proprio io ce l'ho messa perché sono venuta accatti ce l'ho nata atta malamente perché non sa merito è una signora questa ho comprati pesce solo per 3 mesi si però se ti asciugna ma che sta accattato a fare? questo tipo è un minuto in me va bene c'è l'ho che stia senta questa cosa invece no mi devo passare la cintura troppo bello ma che bello stessa a te è bello bello non è neanche tanto grande è piccolino come il volante no è piccolo ma poi dà la macchina sportiva non ti dite lo stessa un po' di lato è la manchina è la stessa proprio dritto C'è un passacchissimo, no, questo è il ciclo, vai, vai Arrivo Poi si stacca Finisce, aspetta